La perdita di Zelia, moglie e mamma, per gli effetti avversi del vaccino anti-Covid valgono 77.000 euro. È la cifra che il Ministero della Salute ha riconosciuto come indennizzo alla famiglia di Zelia Guzzo, l'insegnante di Gela di 37 anni, morta due anni fa, 24 giorni dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. L'insegnante, madre di un bambino di un anno e mezzo, è morta per una trombosi cerebrale provocata dall'inoculazione del vaccino. Un risarcimento che la famiglia dell'insegnante definisce irrisorio e offensivo per una perdita che ha provocato tanto dolore. Saranno risarciti il marito, il figlio e le sorelle. Chiaramente l'ottenimento di questa somma è disciplinata e normata dalla legge 210 del 1992. La cifra è stabilita, purtroppo irrisoria, oserei dire anche offensiva, è quella. È stata stabilita appunto dalla legge e quindi abbiamo proceduto all'ottenimento, ma chiaramente è solamente un punto di partenza perché tende già un procedimento penale ancora in piedi presso il tribunale di Gela. Ci sarà anche il profilo risarcitorio da sviscerare. L'avvocato Valerio Messina, che assiste alla famiglia, ha spiegato come le perizie di una speciale commissione ospedaliera di Messina stabilirono la correlazione tra la somministrazione del vaccino e i gravi effetti che portarono al decesso. Anche quando nessuno ci credeva. Già da aprile del 2021 è stato accertato in maniera categorica il nesso eziologico tra la somministrazione e poi l'evento avverso che ne ha causato purtroppo la dipartita. Questo è un ulteriore punto di partenza e lo spunto da cui trarre in buona sostanza le conclusioni. Zelia Guzzo venne vaccinata il 1 marzo del 2021. Pochi giorni dopo iniziò a stare male. Il 12 marzo il ricovero all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove morì il 24 marzo. La vita non ha prezzo, ha commentato il marito della professoressa Andrea Nicosia. Questa somma è un'offesa per il mio bambino rimasto orfano due anni. Mi sento doppiamente tradito dallo Stato. La famiglia Guzzo è stata la prima in Italia ad aver ricevuto l'indennizzo. Con la stessa somma sono stati risarciti anche i genitori di un insegnante 32enne di Genova, Francesca Toscano. In Italia sono otto le morti che sarebbero state accertate in seguito all'inoculazione di AstraZeneca. Anche loro sono in attesa di indennizzo da parte dello Stato. Ma la battaglia della famiglia Guzzo non finisce qui. Ora chi ha le responsabilità le assumesse in qualche maniera bisogna dare giustizia a questa famiglia per quanto successo. Ovviamente non ci fermeremo davanti a niente a nessuno. Tenteremo fino alla fine di rendere giustizia a tutta la famiglia.